ragazzi c'è un piccolo problema voi vi chiederete perché sono vestito da gatto silvestro la mia risposta è non lo sapevo la felpa non mi piaceva quella che avevo su e non c'ho voglia di tirare una felpa nuova fuori benvenuti ragazzi in questo nuovo video dello sguarnista come al solito in casa sguarnista perché abbiamo altri prodotti da recensire e provare questa volta passiamo dall'estetica della moto fino alla parte prestazionale e al suono della moto adesso vedrete cosa abbiamo adesso non so se magari metterò qualcosa nel titolo qualche spoiler all'interno del passo come l'erga adesso lo andremo a specificare per bene e a vedere bene di cosa si tratta il primo oggetto sono queste strisce colorate sono le famose strisce che si mettono all'esterno del cerchio sul bordo sul bordino questo perché così voglio dare un look un attimino più aggressivo alla moto volevo dargli tra virgolette un look fosforescente al buio si vedranno tranquillamente questa parte più o meno la voglio fare un attimino più veloce perché è la parte tra virgolette più noiosa quindi preferisco togliere questa parte o comunque ridurla e passare la maggior parte del tempo in moto dato che sono un motovlogger e non un vlogger sono i Mikado non è vero niente sono... vostra strategica eh sono dei color raggi se vi chiedete cosa servono praticamente sono dei bastoncini delle cannucce piate che si applicano appunto sul raggio per proteggerli all'inizio l'idea è di proteggerli poi vabbè con i vari colori si è trasformato in un tra virgolette moda io li ho voluti prendere neri perché tutti quelli con 701 che prendono i coloraggi o ce li hanno blu fosforescente ce li hanno gialli fosforescente ed ecco voglio distaccarmi un attimo li voglio prendere neri l'Ergal allora sono due pezzettini un attimino piccoli comunque ci sono tantissime robe in Ergal che si può acquistare naturalmente sul sito banggood.com tutti i link dei prodotti li trovate in descrizione allora questi oggetti sono importantissimi fate conto che originali costano intorno ai originali della Oswarna 60 euro li spendete tutti qua con 20 dollari se non sbaglio prendiamo il puntalino del freno e il puntalino della marcia blu in Ergal volevo da tempo solo che appunto per la cifra che hanno detto no grazie potete tenerli perché 60 70 80 euro non li voglio spendere quindi ho deciso di prenderli su banggood e li testeremo insieme naturalmente diremo vediamo come sono se valgono la pena andiamo all'ultimo oggetto naturalmente questa volta so gli oggetti li ho scartati prima perché ho registrato un pezzo prima solo che dato che vedi che moto vlogger bravo non mi sono piaciuti i video ho voluto riregistrare adesso abbiamo un oggetto veramente veramente importante dal punto di vista prestazionale adesso andiamo a vedere cosa sarà vi faccio un piccolo spoiler subito adesso se capite cos'è scrivetelo nei commenti naturalmente secondo voi cos'è? 1. le caldarroste 2. uno scarico 3. un acquario di pesce potrebbe essere di tutto potrebbe essere appunto una scatola piena di caldarroste oppure un acquario di pesce in miniature è un aklapovic ok ho deciso di prenderlo ok è vero ho l'aklapovic originale voi vi chiederete ma perché spendi soldi alla c***o di cane? e avete un po' ragione anzi no avete ragione però volevo testare questo scarico dato che praticamente in tutto il mondo si critica e si elogia questo scarico voglio testarlo per bene e vedere come si comporta con la mia moto diciamo che credo che farà molto più casino rispetto alla krapovic originale dato che comunque il DB killer è estraibile con una brugoletta semplice semplice con questo scarico i fumi passeranno direttamente dall'uscita del cilindro passeranno subito fuori è un tubo unico che passa subito fuori quindi ragazzi adesso ritorniamo subito in sello andiamo a testare tutto appena sbuco un attimino di sole dato che praticamente oggi danno pioggia monteremo tutto monteremo anche i color raggi e credo di fare anche un tutorial su come montare i color raggi dato che in mille mi chiedono appunto come si montano come si non montano li ho mai provati finalmente ho la possibilità di provarli e andremo a vedere appunto se sono così difficili come si dicono 3,2,1 perfetto ragazzi finalmente eccoci arrivate di nuovo in sella con tutti gli accessori Banggood montati quindi pedale nel freno spero che si vede quella del cambio non ho potuto montarla quella originale è completamente incastrata non si può togliere a meno che non si rompe non so se sentite bene il rumore della moto che è leggermente cambiato è più sbrapposo come posso dire perché ho montato appunto la Krapovic anzi la Krapovic fa un casino bestiale e naturalmente lo proveremo senza TV killer quella ragazzi c'è un piccolo problema mi si è staccata la mi si è staccata lo scarico sono un po' nella cacchetta allora abbiamo scoperto che questo scarico non va bene per il 701 perché l'ho montato alla sperindio l'ho montato proprio alla sperindio adesso cosa facciamo titolo click the manetta manetta ho perso lo scarico mentre andavo adesso andare in giro così non mi sembra il caso dobbiamo in qualche modo non so se si vede che tutto è incastrato è proprio uscito fuori è proprio uscito fuori nel riuscire a incastrarglilo dentro così bene 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 un cazzo ole così si trattano gli scarichi perfetto guardate tutto quello che sta bruciando dentro perfetto allora ritorniamo subito a casa perché non ci penso nemmeno di andare in giro così doveva essere un video recensione ma ho perso lo scarico mentre andavo no alla fine si è solo staccato dai niente di che facciamo un ciocco assurdo oh mio dio oh mio dio facciamo così io gli accessori che ho messo ve li faccio vedere naturalmente mi è arrivata anche la telecamera nel frattempo che mi sono arrivati gli accessori di bangood mi è arrivata anche la telecamera e ho registrato qualche video che naturalmente vi metterò in sovraimpressione posso dire che registra bene l'audio come al solito è la pecca delle gopro action cam cinesi però che ci potete fare c'ha tanti di quegli accessori che gopro vi costerebbero praticamente come la telecamera in sé messo naturalmente vi metterò il video qual è stato l'impressione per far vedere un po' quello abbiamo fatto ieri in zona industriale non posso andare in giro senza scarico ragazzi mi brucio la plastica e senza tb killer cioè vabbè alla fine è uguale ci mancava pure questa e se arriva la polizia mi mangia vivo proprio ritorniamo su un mese indietro ritorno a casa sto bene così e andiamo pian pianino ho capito che se penno anche solo a td mi si stacca lo scarico si vabbè praticamente si è di nuovo staccato sentite che cazzo di ciocco fa cioè non puoi non puoi questo scarico ha un db killer interno e un esterno che praticamente è finto perché è completamente forato e non serve a nulla non serve praticamente a nulla da dentro c'è un db killerino piccolino un baby killer ecco un baby killer si ostruisce fumi togliendo quello che è una cazzata c'è una vita è sopra siete a posto ragazzi siete completamente a posto e come girare senza db killer naturalmente io l'ho fatto però l'ho provato nel box a togliere completamente tutto cioè è illegale troppo illegale porca troia si è staccato di nuovo non puoi andare in giro così ma zio da parte lo scarico si stacca da parte lo scarico che si stacca perché vabbè sono deficiente io perché praticamente cosa succede si si tutto a posto tutto a posto ecco vedete lui è un grand'uomo lui è veramente un grand'uomo non lo conosco non l'ho mai visto in vita mia mi sta simpatico io qua devo dire che reggono bene sono anche catarin frangenti sono cantarin frangenti mi sono completamente dimenticato di dirvelo sono cantarin frangenti ve li da dio sempre da Van Gogh mi sono arrivati anche i tappini vedete invece con Aiken sono riuscito a registrare qualcosina registra abbastanza bene l'unica pecca di queste action cam è che appunto l'audio si sente non bene non si sente molto bene è una cosa dispiace comunque per quel prezzo che hanno se avessero l'audio della GoPro cazzo quest'ora GoPro sarebbe nei casini comunque dentro là ci sono tantissimi veramente tantissimi accessori costa mi sembra 10 euro in più rispetto all'Iconnet che condividono lo stesso case ma hanno in più hanno anche lo slot per la ricarica a parte questo piccolo inconveniente dello scarico per il resto devo ringraziare ufficialmente Banggood perché ogni volta mi da sorprese nuove adesso lasciando stare appunto questo piccolo inconveniente che quante volte ho detto piccolo inconveniente a parte questo problemino comunque non è dato da loro è colpa mia che non ho messo lo scarico proprio bene 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 ma ragazzi non ci potevo far nulla alla fine grazie ufficialmente anche Eken trovate tutti i link naturalmente sia di Banggood sia di Eken dell'Action Cam in descrizione se volete entrare nel canale di Telegram nessun problema il link sotto in descrizione sotto gli ultimi video se vi è piaciuto il video ragazzi un mi piace mi aiuterebbe a crescere sul canale al prossimo video piano piano di nuovo non immagini quante volte mi sia staccato ehi senti questa è la rotonda fate così hai detto fate così e senti un elicotter figa